Abitazioni e negozi distrutti, strade e ponti che non ci sono più, morti, feriti e centinaia di sfollati. E' lo scenario apocalittico provocato dall'alluvione che ha colpito le marche. Le attività di bonifica e di pulizia da fango e detriti proseguono senza sosta, così come quelle di ripristino dei servizi essenziali, dall'acqua al gas metano all'elettricità, anche grazie a gruppi elettrogeni temporanei e cave aerei. Oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile sono migliaia i volontari, tra cui anche molti giovanissimi, che armati di vanghe hanno raggiunto i territori più colpiti per aiutare la popolazione, ma c'è ancora tanto da fare. Ieri il comune di Senegaglia ha pubblicato una mappa con l'indicazione delle aree interessate, dalla piena dei fiumi Misa e Cesano, per poter eseguire i lavori più velocemente e in sicurezza. E' stato istituito il divieto di transito. Possono circolare i veicoli delle forze dell'ordine, della protezione civile, i mezzi di soccorso, i veicoli impiegati nella rimozione dei rifiuti, quelli dei residenti e di quanti prestano servizio a favore dei proprietari degli immobili. Il centro operativo comunale ha disposto alla sospensione del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano anche per l'intera giornata di domani, martedì 20 settembre, perché molte vie non sono ancora transitabili. Inoltre resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine grado, il centro diurno Alzheimer e quelli per disabili, così come i musei e la biblioteca Antonelliana, nonché gli uffici postali di Senegaglia Centro, Saline e Cesano. Oggi il capo della protezione civile Fabrizio Curcio ha effettuato sopralluoghi partendo dalla provincia di Pesaro per poi passare in quella di Ancona. Siamo sul territorio per parlare con i sindaci, per vedere direttamente le attività che sono state poste in essere in questi giorni e comprendere ancora le necessità che sono rappresentate dal territorio. Ovviamente c'è una dichiarazione di stato di emergenza che è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri, abbiamo firmato l'ordinanza di protezione civile che nomina il Presidente della Regione commissario delegato e fornisce i poteri al commissario per attivare e per mettere in atto le prime misure. Il sistema è coordinato, devo dire che c'è grande presenza sul territorio, i sindaci sono veramente dei punti di riferimento dovunque li trovo molto centrati sulle attività che stanno ponendo in essere, quindi stiamo migliorando la catena di comunicazione con la parte regionale e poi col sistema nazionale, visto che è stato attivato anche con la presenza di volontari che sono pervenuti da diverse parti d'Italia. Intanto mezzi uomini della provincia di Pesaro e Rubino sono al lavoro senza sosta insieme alle ruspe delle imprese private sulle strade colpite dall'alluvione. Lo sforzo è enorme, ha evidenziato il dirigente provinciale Mario Primavera, anche perché l'80% della viabilità dell'area del Catria è stata compromessa. Ci sono intere sedi stradali completamente distrutte da ricostruire, tutte quelle che portano al monte praticamente non esistono più. D'altra parte è stato ripristinato il collegamento da Serra Sant'Abbondio all'eremo di Fonte Avellana, ma solo a una corsia ed esclusivamente per i mezzi di pubblica sicurezza, garantito anche il collegamento Cantiano-Chiaserna grazie al bypass di passaggio attraverso strade comunali con senso unico alternato a tratti a due corsie. Ripristinato anche il collegamento Serra Sant'Abbondio-Pergola. Per tutto il resto della viabilità provinciale, ha detto il dirigente, si potrà intervenire solo con finanziamenti ingenti e con tempi sicuramente non brevi.